Musica 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 Uee ragazzi come va? Spero tutto tutto bene Stamattina mi sono svegliato all'alba di mezzogiorno e sono stato bombardato di messaggi tipo e quindi niente state calmi se proprio volete vi spiego cosa ne penso io di tutta questa faccenda Prima di arrivare al frame incriminato voglio dire una cosa Tyler, una cosa che lui mi ha provocato con questo video una profonda ma profonda nostalgia e depressione Adesso è da un po' di tempo che non le rispondo nemmeno perché appunto ho aspettato del tempo per pensare cosa farne come comportarmi appunto e alla fine ho deciso di registrare questo video l'infanzia perduta che non tornerà mai più ma danni e motivi a parte arriviamo al punto fatidico la tipa le ha uscite cioè io pensavo che fosse davvero innamorata del suo adorato youtuber e invece questa tipa ci sta questa tipa ci sta capite? è una merda è una situazione del cazzo ed ecco l'immagine che mi state mandando tutti per un millisecondo la censura si toglie e si vede che il nome della persona con la quale sta parlando in chat non è di una ragazza ma bensì di un certo genzo ora è importante dire e se non lo facessi sarei una vera merda che Tyler dopo essersi accorto di questo errore forse troppo tardi ha fatto due live su facebook dove spiegava che lui per censurare i nomi delle ragazze usa due layer due strati uno appunto con il nome genzo e l'altro con i pixel ora a me questa cosa sembra un po' strana e qui la mia opinione prende due strade molto separate Tyler in teoria è il re di queste cose giusto? colui che non fa mai fake tutti i suoi video sono veri e immagino che lui prenda anche una bella dose di orgoglio da tutto ciò quindi io mi chiedo se il pilastro del tuo canale è proprio quello che tu non fai cose fake come fa a sfuggirti una cosa simile? cioè mica sei LucaJ Minecraft XX99 che sa usare a malapena un programma di montaggio e quindi fa tutti questi errori grossolani quindi le mie ipotesi sono tre uno, Tyler sta dicendo la verità due, questo è tutto un complotto o tre, anche Tyler fa video fake dico fin da subito che anche se può sembrare una battuta io sono più propenso verso l'ipotesi numero due un canale che fino ad ora aveva la reputazione di l'unico che fa le cose veramente proprio ora con questa polemica che sta impazzendo dei video falsi fa un video dove c'è un errore così grossolano raga io non sono mai il tipo con strane teorie del complotto ma se Tyler avesse fatto questo video per creare un po' di shitstorm io non sono cieco mi rendo conto che ci sono un sacco di canali che stanno parlando di me in questo momento e so anche che per fortuna sarà una cosa passeggera come tutto su questo sito ma guarda caso, guarda caso nel pieno della polemica dei video veri, falsi, della shitstorm più totale il canale più grande, il re di questo genere di video che almeno per quanto ne so io non ha mai suscitato una polemica se i suoi video fossero veri o falsi se ne esce appunto con un video così sgamabile se il suo obiettivo era quello di far parlare di questo video ci sta riuscendo alla grande ti meriti un mio applauso forse sarò stato influenzato da tutti quei complotti avvenuti in YouTube America da Marina Joyce a RiceGum e Fusitube la cosa dei due strati, cioè di mettere prima lo strato con Genzo e poi di pixelare tutto non mi regge molto come spiegazione dal mio punto di vista in quanto montatore video se non voglio far vedere una cosa la elimino e basta non vedo perché dovrei mettere strati su strati solo per complicarmi la vita nonostante ciò non sparerò sentenze a caso io ho solo esposto i fatti e ho dato la mia opinione e francamente data la reputazione che ha il suo canale mi sembra molto più probabile l'ipotesi del complotto però l'ipotesi 3 cioè quella in cui dico che forse questo video è fake rimane plausibile solo per un fatto e Tyler se stai guardando questo video gradirei che me lo spiegassi se la conversazione con questa ragazza e il nome Genzo e l'immagine di Genzo sono lì come layer per coprire il nome di questa ragazza allora perché in quel messaggio vocale è evidente che ci sia la stessa foto di Genzo inoltre la mia seconda perplessità se come dici tu usi due layer per censurare il nome di questa ragazza e per due layer si intendono almeno in linguaggio generale due immagini fisse non due video due immagini allora come mai nel mezzo del video i messaggi non letti diventano da 86 ad 87 questa cosa Tyler e ti giuro mi dispiace dirtelo ma non mi quadra proprio per niente per ottenere una cosa simile in tempo reale avresti dovuto avere due cellulari uno in cui registravi la conversazione con la ragazza e un altro dove registravi solo lo schermo di una conversazione dove non succedeva niente con Genzo e poi avresti dovuto montare il video uno sopra all'altro mostrando solo la parte sopra della conversazione con Genzo e per la parte sotto la conversazione con la ragazza tu nella live hai detto che questo video ti ha richiesto poco tempo che l'hai montato di fretta ma porca miseria in quanto montatore anche io fare una cosa simile richiederebbe un sacco di tempo e di sforzi inutili quando con un paio di click potresti semplicemente cancellare il nome della ragazza direttamente questa è l'unica cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso magari molti non se ne sono accorti però eh io si poi oh il giudizio finale sarà a tutti voi qui non siamo ai livelli di palesemente ovvio come nell'altro video che ho fatto su chi se le fa uscire Tyler già si è difeso e ha detto che questo video è assolutamente vero però ci sono quelle incongruenze che proprio non mi fanno totalmente mettere l'anima in pace e niente non ho più nulla da dire se vi è piaciuto questo video lasciate un like e fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia nei commenti ripeto un'altra volta onde evitare inutili incomprensioni non ho fatto questo video con un'intenzione accusatoria verso Tyler volevo solo esprimere la mia perplessità su quelle cose che ancora nessuno ha fatto notare ora devo proprio andare che è pronta la pasta asciutta ciao 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 ciao